Musica Cambiano i tempi, cambiano i partiti, ma per molti fiorentini la festa democratica rimane un appuntamento imperdibile di fine estate. La festa degli anni è cambiata meno di quello che è cambiata la politica, meno di quello che è cambiata la società. E infatti ci sono gli stand, i ristoranti, i concerti e naturalmente l'immancabile dibattito. Ora stasera... C'è Civati. Allora andiamo a sentirlo. La politica invece è cambiata così tanto che oggi il PD è alleato del PDL. Ho visto cose in questo periodo che non avrei pensato di vedere, ecco. Ora non è il momento per poterne parlare. E per mantenere in piedi il governo potrebbe salvare Berlusconi dalla decadenza. Con questo non l'accetto, non aspetta il PD salvare Berlusconi. Ma Berlusconi ormai è stato dannato per una ragione importante. C'è chi dice se in questo periodo si va alle elezioni allora potrà succedere disastro. Secondo me no. Altri pensano al contrario che sia possibile una nuova maggioranza. A me sta bene anche il 5 Stelle, basta che le cose siano chiare ma alla luce di sole. I cani sciolti, un po' dai Movimento 5 Stelle, un po' dai PDL, qualcuno un po' così. E infine tra le preoccupazioni discritti e simpatizzanti c'è l'incertezza sul futuro del Partito Democratico. C'è più confusione ai vertici del PD o qui nel vostro stand? Forse ai vertici del PD.